Pesano e tanto le imposte comunali e regionali, soprattutto al sud. Per la CGA di Mestre, stipendi e pensioni vedono una presenza significativa di addizionali comunali e regionali IRPEF. Prese in considerazione, quattro tipologie di lavoratori emerge con forza, in ogni caso, come il peso fiscale maggiore se lo ritrovino sulle spalle i cittadini di Calabria, Molise e Lazio. Ad esempio, per un lavoratore calabrese, le addizionali IRPEF ammontano a 449 euro per il 2013, mentre per i pensionati molisani arrivano a 448 euro. In entrambi i casi, rincaro è superiore a 100 euro. Un paese a macchia di leopardo che vede differenti situazioni nel pagamento delle tasse che si determinano soprattutto per il disordine dei conti sanitari regionali che vengono di fatto scaricati poi sui contribuenti. Questi ultimi, peraltro, già pagano altre accise locali, ad esempio sul prezzo della benzina che vede una differente tassazione regione per regione. Le difficoltà sanitarie delle regioni del sud svolgono una funzione strategica nel pagamento delle tasse, tanto che per rispettare i piani di rientro le regioni sono state costrette ad innalzare ulteriormente l'aliquota, arrivando a toccare la soglia dell'1,7%, aumentata ancora di più dopo il decreto Salva Italia del governo Monti, incidendo così pesantemente sulle tasche degli italiani.